Bene amici di Trecno.net, Samsung è acceso su enorme display qua su Times Square, dove noi ci troviamo, perché? Prima di tutto perché stiamo comprimendo il video con la nostra redazione mobile, il video che abbiamo appena girato al Radio City Music Hall dove Samsung è in questo modo per farvi vedere come Samsung è in casa di Apple perché si è portato in Times Square, per farvi vedere ai finanziari clienti il proprio nuovo comodario quindi una fila che sta creando, c'è sempre più gente, stavate qui in fila proprio per vedere questo nuovo canto Abbiamo fatto questo breve video per farvi vedere come stiamo lavorando al freddo, sperando di farvi vedere al resto i video che sono in quel computer quindi tra poco li vedrete sul canale YouTube del Foneo.net